I Los Angeles Clippers contro Kobe Bryant e i Los Angeles Lakers Quella che è una storia di culto, è stata una storia di culto per anni Nel basket NBA e nel sommerso del basket NBA è diventata una partita seria, importante Quasi vitale per certi versi per le due squadre I Lakers in difficoltà, riduci da tre sconfitte I Clippers che potrebbero definitivamente assestarsi nel ruolo di udite udite Squadra guida della città degli angeli Flavio tranquillo, Federico Buffa è derby Sì, la rivalità cittadina meno sentita dello sport mondiale E anche perché da una parte 16 titoli e il global brand più global brand della storia della pallacanestro Contro 41 anni di implacabile perdere perderemo Ha improvvisamente preso fuoco Deve essere successo qualcosa Flav, per esempio quello lì con la palla in mano Ancora Stable Center, ancora derby di Los Angeles Lakers contro Clippers Per sedermi completamente diverso rispetto al passato Nel passato uno degli episodi più indimenticabili è Sheck che arriva al botteghino e dice C'è una busta per me, no guarda il signor O'Neill non c'è nessuna busta No c'è una busta per me, il mio compleanno, ci sono i biglietti per i miei amici No non c'è nessuna busta signor O'Neill Va bene, allora ci sono 61 punti per voi Record in carriera di Sheck e O'Neill come vendetta perché i Clippers tirati il loro Non avevano lasciato i biglietti il giorno del compleanno di Sheck per gli amici Tutto vero, tutto tragicamente vero La situazione di Laker è piuttosto particolare, lo avete intuito O da quando ha preso il controllo della situazione Jimmy Bass, figlio di Jerry, la versione Angelina del Trota È stato sulla carta deleted, cancellato ogni cosa che abbia a che fare con Coach Jackson Tranne la sorella Ginny, fidanzata, che non possono far fuori o sciogliere nell'acido Si presenta la partita con quattro signore del Tè, se ne va al primo tempo nel Wise Lounge a vedere la gara In realtà però Coach Brown dà la grande pisaccia ogni tanto qualcosina dell'acido tecnico di Jackson Pesca Rimesse, sette offensivi